Oggi nella splendida cornice di Piazza della Repubblica si svolgerà la cerimonia dell'Alza Bandiera in occasione del tredicesimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Lagunari Truppe Amfibie. Si procede alla cerimonia dell'Alza Bandiera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 Viene ora deposta una corona di alloro in memoria ai caduti. San Marco! Onore ai caduti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.